Ciao Florin, sono veramente onorato di avermi messo nella tua squadra ideale perché tu hai giocato con tantissimi grandi campioni nei club e nella tua nazionale. Ancora mi ricordo di te perché abbiamo vissuto insieme quell'anno nella Castellanza e ancora mi ricordo quel gol che ti ha fatto segnare contro il Porto nella Champions League. Ti mando migliori auguri e tanti saluti dal Montenegro. Ciao Florin.